Abbiamo dato prima notizia di questa operazione alla Guardia di Finanza, 78 persone indebitamente percepivano il reddito di cittadinanza, hanno intascato in totale oltre 1.200.000 euro e noi ne parliamo insieme al Capitano Antonio Di Fratta, comandante della Compagnia delle Fiamme Gialle di Catania. Buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Capitano, come siete riusciti ad individuare questi 78 soggetti? Sono tantissimi. Allora, nello specifico è stata eseguita una mirata attività di intelligence che ha permesso di individuare una sorta di platea di soggetti che erano affetti da criticità. Criticità che poi nello specifico sono state approfondite, giuridicamente parlando, sviscerate per poi andare a trovare quello che era il problema afferente alla percezione del reddito. Tanto è vero che nel caso di specie sono stati individuati soggetti che erano completamente fuori linea da quelli che sono i criteri che ammettono al beneficio. Tra questi troviamo soggetti con possidenti immobiliari e immobiliari di notevole importanza, giocatori online che hanno percepito vincite anche per oltre mezzo milione di Euro. Tra questi numerosi possessori di motociclette di grossa cilindrata, piuttosto che auto, eredità. Diciamo che la platea è molto vasta, come ben detto sono 78 soggetti i quali tutti erano affetti da criticità non segnalate. Ecco Capitano, adesso sono stati questi soggetti oltre a essere denunciati, si procederà al recupero da delle somme erogate. I controlli comunque continuano ad andare avanti anche nei confronti di altre persone? Certamente, questo è stato uno spaccato di attività che la compagnia di Catania svolge quotidianamente che comunque continuerà ad essere posta in essere, scusi gioco di parole, sempre nell'ottica di tutela del cittadino e della legalità. Ecco Capitano, in conclusione voglio chiederle anche uno di questi soggetti risultava tra coloro che lavorano in nero. In questo caso come siete riusciti a risalire a questa sua attività lavorativa che comunque svolgeva senza dichiararla? Certamente l'attività della Guardia di Finanza ha un carattere trasversale nella misura in cui i compiti sono molteplici e le materie che vengono trattate altrettante. Quindi questi soggetti nell'ambito di altra attività ispettiva sono stati corti nel compiere la propria opera lavorativa e da successivi controlli si è rivelato poi essere possessori di reddito di cittadinanza. Quindi praticamente avete proceduto a ritroso. Esattamente. Grazie al Capitano Antonio Di Fratta, comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Catania per essere stato stamani qui in nostra compagnia. Buona giornata e buon lavoro. Grazie e buona giornata.